Emergono nuovi particolari sull'inchiesta legata al giro di usura scoperto tra Santa Croce e Vittoria agli usurai anche una bici ceduta per 4.000 euro quando ne valeva 24.000. Polizia provinciale in azione ha per scoraggiare il sempre preoccupante fenomeno delle fumarole nelle ultime ore controllate in provincia 24 imprese serricole e denunciati 8 imprenditori agricoli. A Ispiga la Guardia di Finanza sequestro un impianto illegale di carburante destinato all'autotrazione. L'impianto era dotato di due serbatoi, una elettropompa, volumetriche e una pistola erogatrice. Operazione Verità sulla EMAE da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia, con video e slide raccontati quelli che vengono definiti i veri risultati dopo dieci anni di amministrazione e inclusia. Lascia a Pozzale il primo poliambulatore pediatrico privato in Sicilia, una struttura dotata di ambulatori specializzati per le cure mediche ai bambini da 0 a 14 anni. Benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra informazione, cronica dunque in apertura. Emergono nuovi particolari, anche curiosi, sull'inchiesta legata al giro di usura, scoperto dalla Finanza a Santa Croce, Camerina e Vittoria. Agli usurai sarebbe andata anche una bicicletta ceduta per 4.000 euro, quando invece ne valeva circa 25.000. C'è di tutto e di più nell'inchiesta avviata dalla Procura di Ragusa dopo la scoperta da parte della Guardia di Finanza di un vasto giro di usura con base logistica a Santa Croce Camerina. Nel giro c'era infatti anche una bicicletta, ma non una bici qualunque, questa era invece una bici dal valore di 25.000 euro. Secondo le indagini sarebbe stata ceduta agli usurai per la modica somma, in questo caso di 4.000 euro. Molte delle persone che non riuscivano in pratica a saldare i debiti, non potendo contare su somme incontanti, cedevano di tutto, aziende, case, immobili e anche oggetti dal valore puramente affettivo. E nelle mali degli inquirenti sono finiti anche assegni tutti tracciabili. Un'inchiesta che, come è noto, ha portato finora l'arresto di tre persone, tra cui il direttore della filiale di Santa Croce, che potrebbe riservare le tue sorprese, in quanto nel mirino delle fiamme gialle sarebbe finita anche un insospettabile professionista del piccolo centro ebreo che avrebbe investito cospicue somme nelle illecite attività. L'inchiesta, avviata nei primi giorni del nuovo anno, sembra destinata comunque a svilupparsi anche fuori provincia, con Gela e forse Galtanissette interessate al vasto giro di usure e distorsioni. Per quanto riguarda poi il direttore di filiale finito ai domiciliari, il legale difensore Daniele Scrofani chiederà la scarcerazione del bancario. Poi si potrà ricorrere al Tribunale della Libertà. Arrestata Vittoria dalla Polizia, un 37enne condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Catania perché è ritenuto responsabile di spaccio di droga continuato e in concorso. L'uomo è ritenuto colpevole di avere svolto il ruolo di corriere della droga. Torna in carcere Giovanni Salerno, vittoriese di 37 anni, ritenuto dagli inquirenti un corriere della droga. L'uomo era già stato arrestato nell'ottobre 2010 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Tsunami, che portò in carcere decine di presunti trafficanti di sostanze stupefacenti. Poi, tornato libero, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Salerno in particolare è ritenuto colpevole di aver svolto il ruolo di corriere all'interno del sodalizio capeggiato dal suocero Pasquale Castellino, servendosi della sua attività di autotrasportatore per spostare la droga ricevuta da Corrieri di Milano. In questi giorni è ora divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha riconosciuto Salerno colpevole, condannandola a 7 anni di reclusione e dal pagamento di una multa di 25.000 euro, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena, sospensione della potestà genitoriale durante la pena, ritiro della patente di guida per un anno e mezzo e dalla libertà vigilata per un anno. I fatti, secondo quanto ricostruito, sono stati commessi a Vittoria, Sandonato Milanese, Siderno, Colombia e Germania. Rintracciato dagli agenti del commissariato di Polizia di Vittoria, dopo la formalizzazione degli atti, Salerno è stato condotto nella sua abitazione, dove dovrà rimanere agli arresti domiciliari per 11 mesi. Proseguono intanto i controlli nell'Ipparino e non solo contro le fumarole ad opera della Polizia Provinciale. Negli ultimi giorni controllate 24 imprese serricole, denunciati 8 imprenditori agricoli. Anche quest'anno torna a presentarsi il fenomeno delle cosiddette fumarole, la deprecabile abitudine di molti agricoltori senza scrupoli di provvedere allo smaltimento mediante bruciatura dei rifiuti vegetali e dei materiali plastici provenienti dall'attività serricola, causando al territorio un grave inquinamento. La Polizia Provinciale, dichiarata al proposito il comandante Raffaele Falconieri, non ha interrotto i controlli neanche nel periodo invernale, a tutela della Salote Pubblica e dell'Ambiente. In questo modo non si è fatta cogliere di sorpresa, predisponendo ed intensificando in quest'ultimo periodo i controlli specifici su tutto il territorio provinciale. L'attività di controllo, svolta anche in orari notturni e mattutini, prosegue Falconieri, è stata rivolta soprattutto al settore provinciale di sud-ovest che interessa i comuni di Ragusa, Santa Croce, Acate, Comis e Vittoria. Questa è la zona dove il fenomeno delle fumarole è prevalente e dove anche in passato si è avuto modo di accertare l'incivile pratica, purtroppo abbastanza diffusa, di incendiare i rifiuti plastici e vegetali all'interno delle proprie aziende. Nel corso delle verifiche compiute dal nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Provinciale sono state sottoposte a controllo preventivo ben 24 imprese serricole nelle quali erano già state accatastate per farne poi un falò rifiuti di plastica, seminiere di polistirolo, tubi di irrigazione e altri rifiuti speciali. Diverse decine di produttori, inoltre, sono stati istruiti sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti al fine di evitarne l'abbandono indiscriminato sul territorio o la loro distruzione mediante incenerimento. La nostra azione repressiva, dichiara Falconieri, si è concretizzata nei giorni scorsi tra i comuni di Vittoria, Cate, Santa Croce, Ragusa e Comise. In queste zone otto imprenditori agricoli sono stati sorpresi mentre bruciavano i rifiuti vegetali e speciali derivanti dalla dismissione delle serre e tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di illecito smaltimento di rifiuti speciali e di immissione molesta di fumi in atmosfera. Inoltre, durante i controlli, un altro imprenditore, ma del settore edile vittoriese, è stato denunciato per ingenerimento di rifiuti costituiti da imballaggi di plastica, cartone e legno. Le attività di vigilanza in quest'ambito, conclude il comandante Falconieri, sono inserite nell'ambito di più un vasto piano di monitoraggio e controllo del territorio e continueranno senza tregua alcuna, interessando tutto l'ambito provinciale. Intanto è stato sventato dai cannabiniere del nucleo radiomobile alla stazione di Santa Croce Camerina, un ennesimo furto di cavi di rame ad essere presi di mira stavolta le palificazioni Telecom in Contrada Piombo. I carabinieri del nucleo radiomobile della stazione di Santa Croce Camerina hanno sventato nella notte un ennesimo furto di cavi di rame. Stavolta i ladri avevano preso di mira le palificazioni Telecom ubicate nella pariferia rurale di Santa Croce Camerina verso la zona denominata Contrada Piombo sulla SP20. Non appena ricevuto l'allarme, la centrale operativa del comando provinciale è immediatamente inviato sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile che, in men che non si dica, è giunta sul posto e ha messo in fuga i malviventi. Le ricerche da parte dei carabinieri sono state immediate, ma i malviventi sono riusciti a fuggire aiutati dall'assoluta oscurità e dalle condizioni impervie della zona rurale. I carabinieri intervenuti hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario circa 240 metri di cavi ancora integri. Gli investigatori del comando provinciale di Ragusa sono ora al lavoro per identificare i malfattori sulla scorta delle tracce revertate in sede di sopralluogo. Negli ultimi anni le linee elettriche, telefoniche e ferroviarie di tutta Italia sono state letteralmente prese d'assalto dai ladri di rame che poi rivendono la refurtiva sul mercato nero ottenendo ingenti ricavi. Evidenti problemi però infrastrutturali derivanti da quella che è divenuta una vera e propria piaga per l'economia del paese. A Pozzallo invece la finanza sequestra un impianto illegale di carburante destinato all'autotrazione e l'impianto con sede a Ispiche era dotato di due serbatoi, un'elettropompa a volumetri e una pistola erogatrice denunciati il titolare dell'azienda. Le fiamme gialle della tenenza di Pozzallo hanno proceduto al sequestro di un impianto illegale di distribuzione contenente oltre 400 litri di carburante per autotrazione. In particolare a Ispiche è stato rinvenuto un impianto privato di distribuzione di carburante costituito da due serbatoi della capacità complessiva di 19.000 litri munito di elettropompa volumetriche e pistola erogatrice irregolarmente costituito. Infatti nel corso delle attività è stata constatata l'assoluta assenza di autorizzazioni. Sono state pertanto contestate violazioni di natura penale a carico del titolare della ditta che è stato denunciato. Contestualmente il prodotto e l'impianto di erogazione sono stati sequestrati, così come un gruppo elettrogeno della potenza di 320 kilowatt anch'esso privo delle prescritte autorizzazioni sulla prevenzione incendi. I finanzieri di Pozzallo, diretti dal tenente Andrea Masciullo, stanno compiendo ulteriori accertamenti al fine di individuare la provenienza del prodotto che se non fosse stato regolarmente acquistato risulterebbe di contrabbando. In questo caso si aggraverebbe la situazione dell'imprenditore. Durante le operazioni è stato chiesto poi l'intervento di un'unità dei Vigili del Fuoco che dopo un sopralluogo ha disposto allo svuotamento dei serbatoi per garantire l'assoluta sicurezza e l'incolumità pubblica. Era originario di Ragusa Fausto Giamponi, il 24enne operaio morto sabato in un incidente sul lavoro vicino a Orroli nel Cagliaritano. L'incidente è avvenuto quasi all'alba. L'operaio avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio precipitato da un'altezza di circa 100 metri. Oltre all'ambulanza, 118 intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per capire se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza. E siamo alla politica. Sulla Fiera Emaia, Vittorio e Consigliati Fratelli d'Italia, Giovanni Moscati e Andrea Nicosia hanno realizzato in modo schematico quello che definiscono l'operazione Verità, ossia i risultati di dieci anni di amministrazione Nicosia. L'hanno chiamato Operazione Verità sul fallimento delle Maia. Si tratta dei consiglieri comunali Giovanni Moscati e Andrea Nicosia che hanno realizzato in modo sintetico uno schema esplicativo dove vengono dimostrati i veri risultati conseguiti dopo anni di amministrazione Nicosia. E con alcuni video e slide, infatti, due consiglieri hanno raccolti i recenti dati emersi da veri bilanci che raccontano quello che definiscono il depauperamento in patrimonio della città. Nell'ultima edizione di Estate Maia, spiegano Moscati e Nicosia, il sindaco ha puntato forte sulla logica Panem et Circensas con alcune serate animate da artisti locali. Si è cercato in questo modo di riportare la gente in fiera, spacciando per un grande successo un colossale flop che non c'entra nulla con l'evento fieristico. Le Maia ha infatti esposizione, arrivo di standisti, di visitatori di pubblico curioso e, se si vuole trasformare invece la fiera in una sagra, rimarcano i due consiglieri, lo dicano pure. Noi abbiamo quindi i numeri, proseguono Moscati e Nicosia, che raccontano di fiere con perdite milionari di debiti che arrivano a quasi 3 milioni e di un percorso virtuoso iniziato col commissario sul senti, ma interrotto per fare spazio a Tolomeo. Numeri che i vittoresi potranno vedere e valutare, concludono i due esponenti di Fratelli d'Italia e dove le responsabilità del comune sono chiare. E quindi prima hanno distrutto Lamio, poi Le Maia, con la foto di Crocetta, che taglie il nastro e che è il paradigma di chi amministra la regione da un lato e la città di Vittoria dall'altro. Situazione in precari comunali a Comiso con il PD che parla dell'infausta decisione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di non approvare a delibera della giunta comunale sul fabbisogno del personale del triennio dal 2014 al 2016. La conseguenza immediata di questo diniego, dicono dalla segreteria del PD, sarà la mancata stabilizzazione dei 47 co-co-co che da troppo tempo attendono di essere stabilizzati lavoratori infatti che hanno subito decisioni prese dall'amministrazione passata che, pur avendole ammessa le procedure di prestabilizzazione nel 2009, non ha dato seguito a quanto espletato. Una notizia, rimarca la segreteria del PD, che arriva come un fulmine al cercereno e che ci vedrà ancora più impegnati e vicini ai 47 lavoratori e ancora più all'amministrazione Spataro. Restiamo a Comiso. Occorre ripristinare immediatamente le misure di sicurezza per la protezione del campo polivalente coperto di Comiso distrutto all'incendio del 2011, lo afferma il Movimento 5 Stelle che chiede al Comune di riaprire il cantiere. Assistiamo con amarezza all'indifferenza con cui questa amministrazione gestisce le opere pubbliche in città. Lo sostiene il Movimento 5 Stelle di Comiso, che parla di immagini ancora vive dell'incendio che nel 2011 distrusse il Palaroma e oggi consegnata al degrado. Una struttura vittima di incuria proseguono i grillini e, da un semplice sopralluogo, si si può rendere conto che il lungo perimetro dell'impianto, nonostante siano stati stanziati circa 24.000 euro per la sua sicurezza, è circondato da sterpaglie soggetti a facili incendi. I grillini di Comiso si chiedono quindi se l'ordinanza del sindaco valga solo per i cittadini o se alla sua ottemperanza è setanuta anche il Comune. E ci si chiede anche con quale senso di responsabilità vengono lasciate aperte le porte dell'impianto, rendendolo così facilmente accessibile al suo interno da chiunque, vandali compresi. La struttura è infatti priva di recensione di cantiere, oltre che piena di sterpaglie, e le proprie 5 stelle hanno tra l'altro presentato un anno fa una segnalazione al comandante dei vigili urbani, allegando l'opportuna documentazione fotografica per testimoniare proprio lo stato di totale abbandono della costruente attività sportiva. Viene quindi chiesto al sindaco Spataro, all'assessore Arrame, al direttore dei lavori, di ripristinare immediatamente il cantiere, predisponendo le necessarie misure di sicurezza per la protezione della struttura. Accate adesso con le nuove critiche di Orizzonti Chiari al sindaco Raffo per il presente Giuseppe Di Natale, iniziate con un caldo torrido la terza estate del Pinocchio Tassatora. Due anni sono passati, un tempo sufficiente per dare un giudizio sull'attività promossa dal sindaco Raffo. Così il presente di Orizzonti Chiari Giuseppe Di Natale che mette in rilievo alcuni stralci del programma del sindaco su Marina Diacate all'atto del suo insediamento. Si parlava di dare alla frazione la dignità di frazione, eliminando desolazione e paura, affrontando il problema della sicurezza, mentre un assessore avrà la responsabilità del villaggio durante tutto l'anno. In estate poi sarà aperto un ufficio comunale per richiedere documenti e per parlare con gli amministratori a Catesi. Inoltre recitava sempre il programma estivo di Raffo, un vigilo urbano avrà la responsabilità della viabilità, dell'ordine, del commercio e dell'igiene e sarà collaborato da un tecnico comunale, mentre la sistemazione della spiaggia sarà il primo impegno con gli interventi che saranno realizzati in tempo e non a stagione inoltrata. Ad oggi per Di Natale invece a Marina Diacate c'è sempre desolazione e paura, non c'è nessun presidio di sicurezza, non è stato aperto alcun ufficio comunale e i lavori sulla spiaggia devono essere ancora avviati. Il Raffo insomma conclude Di Natale e conferma di essere il solito Pinocchio e l'unica cosa che è riuscito a fare è stata quella di tassare in maniera pesantissima i cittadini a Catesi. Nelle fine settimana appena trascorso a Ragusa sono state organizzate col coordinamento all'amministrazione comunale due giornate di pulizia straordinaria e messe in sicurezza della vallata Santa Domenica. Ottima la partecipazione dei cittadini e degli operatori della situazione che hanno manifestato da tempo il proprio impegno e interesse nel complesso intervento di riqualificare la vallata. Il materiale necessario e le attrezzature sono stati forniti come noto dalla protezione civile comunale presente anche attraverso il gruppo dei volontari alle operazioni programmate. Nasce a Pozzalli il primo poliambulatorio pediatrico privato in Sicilia. Si tratta di una struttura riservata ai bambini da 0 a 14 anni ed è l'unica struttura del genere in Sicilia oltre che una delle poche esistenti in Italia. Una struttura dotata di ambulatori specializzati per le consultazioni e le cure mediche dei bambini da 0 a 14 anni, la prima del genere in Sicilia e una delle poche esistenti in Italia, sarà inaugurata a Pozzallo domenica alle ore 19.30. L'arcobaleno, questo è il suo nome, è un poliambulatorio pediatrico dentisti 0 a 14 anni e nasce su iniziativa degli odontoiatri Luciano Susino, Benedetto Di Stefano e Diana Raguni. La struttura, che si pone l'obiettivo di diventare un punto di riferimento interprovinciale e regionale, propone un nuovo approccio ed una diversa filosofia nella tutela e nella promozione della salute dei bambini. La struttura è stata immaginata, arredata e decorata con affreschi a parete che raffigurano spettacolari ambienti sottomarini, acque fondali popolati da coloratissimi e divertenti personaggi di fantasia e pesci formato cartoons, opera dell'artista, scenografo e decoratore di interni Giorgio Terranova e dei suoi allievi Anastasia Mini e Gianluca Di Stefano. Sale d'attese, cliniche, nursery, area giochi, personale dall'abbigliamento colorato, tutto insomma è stato studiato nei minimi particolari per entrare in sintonia con la personalità del piccolo paziente, i suoi problemi e le sue ansie, ed ottenere la collaborazione e la fiducia sua e dei genitori, come raccomandato dal Ministero della Salute. La punta di diamante è lo studio dentistico, dove saranno effettuati interventi di odontoiatria infantile ed ortodonzia intercettiva e correttiva da odontoiatri specializzati, con l'ausilio del laser e di tecniche di sedazione cosciente. Feste patronali in provincia in attesa della festa di San Francesco, domenica prossima a Scoglitti, a Raguse entra nel vivo invece la festa della Madonna del Monte Carmelo, le celebrazioni nel santuario della Madonna del Carmine nel cuore del centro storico hanno già preso il via dal 1 luglio col programma religioso, sante messe, programmate dalle 8.30 e poi alle 19, mentre in piazza Carmine dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.30 suggestiva la celebrazione del rosario. Siamo al calcio, calma piatta per le società dilettantistiche e i blei, impegnate soprattutto a racimolare i soldi per iscriversi ai tornei di competenze o a vendere il titolo perché ormai con l'acqua alla gola. Una di queste è il modica, mentre sul vittorio è sceso un silenzio di tomba. C'è chi può, come Acireale e Paternò, che stanno allestendo squadre di primo ordine, e chi invece no, costretta a rimanere alla finestra aspettando improbabili cordate o acquirenti che continuano a rimanere abbaglianti miraggi. Il vittore è d'esempio, su cui è sceso un inquietante silenzio, tant'è che nessuno ne parla, neanche sulla carta stampata, se non per vecchie pendenze con allenatori e giocatori del passato. Poi il modica, il cui titolo sembra spiccare il volo verso Gela, anche se in giro ci sono troppe voci che non fanno altro, dicono dalla società, che alimentare confusione. Una di queste voci parla di un regolamento federale che non consentirebbe l'operazione. Non viene anche escluso l'azzeramento della società rosso-blu con carte e documenti che finirebbero davanti all'agenzia delle entrate. Poi, in questo triste rosario, c'è naturalmente anche Ragusa, caccia di sponsor. Sembrava la volta buona nei giorni scorsi, poi la doccia gelata, non c'è nessuno sponsor per il Ragusa a calcio. Uno da questo, comunque, che doveva essere sciolto al più presto, visto che in assenza di una sponsorizzazione importante, dissesti i dirigenti azzurri hanno già fatto sapere che non sarebbero più disposti a continuare. Rimetterebbero, infatti, il titolo sportivo nelle mani del primo cittadino. Tutto questo, mentre si avvicina la scadenza per l'iscrizione ai campionati, ma sembra che sia l'ultimo dei problemi. A proposito del futuro della Ragusa a calcio, c'è l'intervento del Presidente all'Associazione Ragusa e Movimento Mario Chiavola, che dice che siamo sinceramente stupefatti per l'atteggiamento che l'amministrazione comunale sta assumendo nei confronti della Ragusa. Dice Chiavola che ci eravamo permessi di dare il ben servito ad un imprenditore che si era messo a disposizione, che avrebbe cacciato i soldi senza chiedere nulla all'ente locale, solo perché, a detta degli amministratori comunali, non era stato particolarmente educato. Ora però apprendiamo che neppure dalla tanto famigerata sponsorizzazione di cui il Comune si sarebbe dovuto fare tramite c'è traccia. Non vorremmo concludere Chiavola, pensare male, anche se spesso facendolo ci sia zecca. E se il Comune, si chiede Chiavola, volesse invece favorire proprio altre squadre e penalizzare Ragusa, chissà per quale motivo, abbandonandola a suo destino. Podistica, domenica prossima in calendario, con partenza da Ibla, una gara podistica che toccherà anche Modica e Scicli in tutto un percorso di 24 km. Con partenza da Piazza Pola alle 7 da Ragusa a Ibla si svolgerà domenica a 12 luglio una gara podistica unica di circa 24 km. Collegherà tre città patrimonio dell'UNESCO, vale a dire Ragusa, Modica e Scicli. Il percorso prevede che i partecipanti da Ibla procedano per la strada vecchia per Modica fino ad arrivare appunto nella città della Contea. Quindi, attraversando il corso principale, gli atleti transiteranno davanti alla chiesa di San Pietro per dirigersi verso Scicli attraverso la cosiddetta Ciumara con la linea del traguardo fissata proprio davanti alla chiesa del patrono San Bartolomeo. Si tratta di una competizione agonistica intitolata al giornalista Giorgio Buscema e verrà preceduta dagli amatori del fit walking o camminata sportiva, in questo caso partenza alle 6. Come sempre, l'organizzazione di questi eventi è curata dall'S di Noal Doping e dallo CSN. È una manifestazione che ritorna in quanto l'anno scorso non venne disputata. Stavolta però la capabilità degli organizzatori ha avuto ragione e in gara ci saranno i migliori specialisti della provincia e non solo pronti, soprattutto allenati, a cimentarsi fra i monumenti Blade e l'UNESCO. E stanno già riscaldando i motori, soprattutto gli atleti della Padua e della Barocco Running, da sempre abituati a fare incetta di trofei e medaglie. Siamo a repilogo dei fatti in primo piano. Emergono nuovi particolari sull'inchiesta legata al giro di usura scoperto tra Santa Croce e Vittoria agli usurai anche una bici ceduta per 4.000 euro quando ne valeva 24.000. Molte delle persone indebitate, non potendo saldare il consumo di denaro, cedevano di tutta aziende, case e terreni, anche oggetti affettivi. L'inchiesta potrebbe intanto allargarsi verso la vicina Gela e sfiorare perfino Caltanissette. Polizia provinciale in azione per scoraggiare il sempre preoccupante fenomeno delle fumarole nelle ultime ore controllate in provincia, 24 imprese serricole e denunciati, 8 imprenditori agricoli. L'attività di controllo, svolta anche in orari notturni e mattutini, è stata rivolta soprattutto al settore provinciale di sud-ovest, interessati oltre a Vittoria, al capoluogo i bleo, anche ai comuni di Santa Croce e Camerina, a Comiso e a Cante. Ai spiega la Guardia di Finanza se questo è un impianto illegale di carburante destinato all'autotrazione. L'impianto era dotato di due serbatoi, un'elettropompa, volumetriche e una pistola erogatrice. Le fiamme gialle di Pozzalli intervenute stanno compiando ulteriori accertamenti al fine di individuare la provenienza del prodotto, che potrebbe risultare di contrabando, intanto il titolare dell'azienda è stato denunciato. Operazione Verità sull'EMAI da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia, con video e slide raccontati quelli che vengono definiti veri risultati dopo dieci anni di amministrazione in Icosia. Nell'ultima edizione di EMAI estate, affermano Giovanni Moscato e Andrea Nicosia, il sindaco ha puntato forte su serate animate da artisti locali, ma EMAIA significa per i due consiglieri esposizioni, arrivo di stendiste e scambi commerciali. Nasce a Pozzalli il primo poliambulatorio pediatrico privato in Sicilia, una struttura dotata di ambulatori specializzati per le cure mediche ai bambini da 0 a 14 anni e una delle poche strutture del genere esistenti in Italia sarà inaugurata domenica 12 luglio alle 19.30, una struttura completa composta da sali di attesa a misura di bambino, nurseri, aree giochi e con personale dell'abbigliamento colorato. Il Tg termina qui, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.